Vai, Tu ci sei arrivato, e potrebbero cantare su un suo tipo di luciana, dicello subito io mi so che erano aggrito e vengono paolo quindi i quasi mici ucc casi di luciana non scendo, io ti vende che c'è capiglietto tutti si arricchiavano, no, arrivavo per me scendo, ti dognuno che cazzo non ti pregheria, no, non scendo scendo, non scendo, arrivavo direttore, scendo non scendia, allora chiamare i pomperi i pomperi cercarono, ma hanno vinto che stagliono cazzo, non fai niente che cazzo, capiglietto allora quindi stagione ci andava a scala, Piero tornerà, ci va ammazzare allora non ci può fare, chiamare i genitori soldi, chiamare i parenti soldi chiamare i ragazzi da sua, che c'è ragazzi di cena scema rena, come ha detto, no, e niente, no, cosa può non scendere, c'è il suo direttore, dice, allora sapete che facete che è davvero, è molto squilibrato, non è come all'altro, quando si vede una cosa da capa, e si dice che si è, si è si è chiamato un prevedo, almeno un battezza, una volta che è da su un battezza, in caso si ammazza questa è già, come si dice, la comunione l'estrema unzione, l'estrema unzione arriva questo prevedo, dice, ma no il figlio ci ha, assolto nell'uomo del padre, del figlio e dello spirito santo questo figlio dice, si, 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 si si, 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 si Grazie a tutti.